vinta la prima sfida salvezza adesso la sfida salvezza con lo Spezia adesso la Juventus deve puntare ad un piazzamento in Europa League non l'ho detto io l'ha detto Massimiliano Allegri con un grandissimo realismo del resto in questo momento il realismo è l'unica cosa che si può mettere in campo il senso figurato in campo nel senso di rettangolo vede bisogna mettere in campo bisogna mettere da parte della Juve che dire l'ultima mezz'ora di la Spezia possibilmente non partendo da una situazione di svantaggio perché altrimenti poi le cose si ricomplicano nuovamente devo dire che onestamente trovo Massimiliano Allegri in questo periodo come dire a volte si arrampica un po sugli specchi lo ammetto fa fatica a mettere assieme un discorso fluido perché si rende conto che la situazione è difficile e quindi va sempre alla ricerca i latini dicevano excusatio non petita cioè come se andasse a giustificare sempre qualche cosa anche se eventualmente non fosse richiesto in quel momento dalla sala stampa è indice ovviamente di sofferenza anche da parte sua perché giustamente è un essere umano e sa di vivere un momento delicato ma soprattutto sa ne sono convinto perché vabbè insomma è una persona intelligente sa di non avere per mano la stessa squadra che aveva nel 2015-16 sa che la situazione è sicuramente molto difficile e quindi a volte si fa prendere un po dalla foga di voler iniziare due o tre discorsi assieme e quando vuoi iniziare due o tre discorsi assieme fai confusione nell'uno e nell'altro si è lasciato andare nell'ultima domanda quando ha parlato di compassione che non vuole la compassione preferisce la critica perché la compassione è dei deboli ed è di chi sta male è per chi sta male e dei perdenti e invece preferisce essere molto e astramente criticato in modo tale che questo funga da stimolo personale per lui naturalmente e poi per la squadra per ottenere determinati risultati ci ha spiegato anche come vede Kuluseski dicendo appunto che secondo lui Kuluseski è una sorta di alter ego di Dybala un'alternativa a Dybala cioè un giocatore sostanzialmente senza ruolo ma di questo ci eravamo accorti un po' tutti lo dice lui quindi è un allenatore quindi ne sa sicuramente più di me e più di tutti gli altri messi assieme tutti noi credo di calcio ne sa più di noi al tempo stesso non mi esimo dal dire o dal pensare che forse per mio modestissimo parere non lo vedo proprio al ter ego di Dybala è vero che è un giocatore anarchico ma come dire lo vedo più adatto a giocare sugli esterni che in mezzo al campo però ripeto mi fido di quello che dice lui e rispetto quello che dice un allenatore ecco in questi casi bisogna sempre partire da un presupposto ragazzi bisogna sempre rispettare quando parla una persona competente e parla ovviamente nell'ambito della sua competenza e delle sue conoscenze ok quindi è un allenatore vede la squadra tutta la settimana si fa un'idea e della formazione e delle doti e delle capacità dei singoli giocatori poi dall'esterno ognuno di noi ha il diritto di essere d'accordo o non essere d'accordo ma va sempre rispettata quella che è l'opinione o meglio quello che è il giudizio perché ognuno nel proprio campo di competenza può arrogarsi ogni tanto il diritto di esprimere giudizi essendo competente di quella materia noi dobbiamo solo rispettare e poi formulare anche i nostri pensieri perché viviamo in libertà forse e quindi abbiamo il diritto di esprimere il nostro parere ecco perché dico che Kluseschi lo vedo meglio sugli esterni se proprio deve trovare una collocazione per correre piuttosto che nella zona centrale del campo però va bene va bene uguale che formazione scenderà in campo contro la Sampdoria? Per in importa lo stiamo dicendo da giorni doveva già essere probabilmente in campo alla Spezia e Allegra ha preferito aspettare un po' linea difensiva con Desciglio, Alessandro, Bonucci, De Ligt praticamente la stessa linea difensiva del primo tempo di la Spezia c'è ancora naturalmente del turnover perché poi c'è il partitone potenziale che è quello di mercoledì contro il Chelsea altro ambito serata nella quale la Juventus deve staccare completamente dal campionato ma possibilmente staccare dopo se si è regalata una domenica nel serio della continuità rispetto alla partita contro lo Spezia perché altrimenti non stacchi mica se la Juve non vince domani sera contro lo Spezia non stacchi dal campionato e non ti butti nella Champions con la testa libera avviene solamente se vinci contro la Sampdoria altrimenti la Sampdoria diventa ostacolo anche per la partita contro i Chelsea in un momento così delicato in una situazione normale di anni precedenti di prima gestione Allegri, di Conte, eccetera non vi avrei mai detto questa cosa adesso mi sento di dirla e ne sono convinto se la Juve non vince contro la Sampdoria farà molta fatica a mettere in campo tutta se stessa contro il Chelsea mercoledì centro campo ritorna quadrato a destra ci sarà Bernardeschi a sinistra Bernardeschi che non aveva giocato dall'inizio contro lo Spezia in mezzo una coppia inedita se vogliamo formata da Locatelli e Ramsey che è tornato a tornerà a vestire una maglia da titolare soprattutto tornerà a vestire una maglia di calcio dopo quelle di allenamento o quelle che indossa in infermeria quando si sdraga sul lettino il caso di Ramsey è una è la situazione di Ramsey non è colpa sua ci mancherebbe altro è una situazione che mi ricorda molto quella di Douglas Costa stiamo parlando di giocatori comunque diversi là c'era un potenziale fuori classe qui c'è un potenziale buon giocatore o ottimo giocatore però la sostanza è la stessa fai una partita sì e tre barra quattro no fai mezza partita sì e rischi di farti male e questa è una situazione viene da dire che la Juve ci ha fatto il callo però non è neanche bello dire così insomma in sostanza perché non c'è Rabiot Rabiot che ha preso una ha avuto un risentimento sul finale della partita contro lo Spezia e quindi non è stato nemmeno convocato davanti Di Bala e Ken o Morata e Di Bala contrariamente a quello che si era pensato Di Bala giocherà ancora dall'inizio io pensavo francamente che non giocasse dall'inizio contro la Sampdoria invece il ballottaggio è tra Morata e Ken evidentemente Massimiliano Allegri non solo vuol dare continuità al progetto Di Bala diciamo non insostituibile ma quasi impiegato alla Cristiano Ronaldo a questo punto cioè concordare magari con lui i momenti di pausa ma evidentemente ritiene che sia meglio assortita la coppia formata da Di Bala e uno degli altri due quindi attaccante diciamo così o giocatore anche lì attaccante non lo so giocatore di movimento più un giocatore d'area anche se quello d'area nel vero senso della parola è più Morata di Ken perché anche a Ken piace sbagliare un po' ma sa giocare anche da da punta da centravanti puro anche Ken quindi vedremo poi domani come si risolverà questo questo ballottaggio questo dubbio ragazzi la Juve ha una sola al di là del fatto che questo è l'imperativo di sempre nella storia della Juve finché ci sarà il calcio finché ci sarà la Juventus e finché ci sarà il calcio ci sarà anche la Juventus nonostante magari qualcuno pensi il contrario l'imperativo è sempre quello vincere che è l'unica cosa che conta in questo momento vincere di un'importanza vitale vitale perché se non vinci con la Sampdoria al di là di quello che ho detto in relazione alla partita contro il Chelsea di mercoledì non vincere contro la Sampdoria per la Juventus significa azzerare non solo in termini di punti ma anche a livello di di testa tutto quanto o comunque quanto ho fatto vedere con lo Spezia in termini poi di risultato finale la Juve deve ritrovare quella continuità che non ha mai avuto l'anno scorso non ricordo mai non ricordo se mai l'anno scorso la Juventus abbia vinto tre partite di file in campionato dubito se la Juve non ritrova questo tipo di continuità allora si mette veramente male perché è vero che dalle altre parti continuano a dire che sì ma la Juve rientrerà in gioco anche Allegri l'ha detto anche oggi con calma con pazienza la Juve rientrerà in gioco eccetera però sotto sotto io penso che dalle altre parti dalle altre delle altre società dalle altre squadre pensino seriamente che la Juve si stia chiamando fuori da questa lotta non so se è un bene o un male perché la Juve vive di pressione e non avere la pressione addosso forse non so se sia un vantaggio o uno svantaggio onestamente non so se sia un vantaggio o uno svantaggio certamente ha una sua pressione interna la Juve che è quella di dimostrare di essere se stessa ecco e vedremo se anche domani ci saranno giocatori o un gruppo comunque all'altezza di poter dimostrare questo assunto vedo che vi ha diviso molto la diatriba sulla nuova regola sulla proposta fatta da Pioli era normale che ci fosse divisione in questo continuo ad essere un po' dubbioso su questa storia qua del passaggio al di là della linea di metà campo e va bene ragazzi la finiamo qua vi do appuntamento a domani nell'intervallo di Juventus Sampdoria con il video in diretto su Facebook e poi il commento finale su YouTube per vedere se questa Juventus sarà stata in grado di vincere due partite consecutive in campionato e sarebbe già sarebbe già un bel un bel biatico ma come si dice in questi casi in ogni caso la Juventus non avrebbe ancora fatto niente alla prossima iscrivetevi al canale ciao anche a quello di mio figlio ciao ciao ciao